Vai! Che anno sei Leo? Ok, vai! Comodo così, te la sei buttata lì davanti, però lì in partita arriva uno e fa gol, metti la rata, andiamo! Palla è? Io la voglio sul... Ok, andiamo! Vai, dai, dai, dai! Vai! Vai! Ok! Vai! È stato dietro, è caricato per uscire! È tutta la stagione che sto figurando! Senti, scusa, ma curi anche...